Rieccoci di nuovo da Cascia, questa volta con il mister dell'ONEi del 2011, Alessandro Nini. Alessandro, come sono andati i suoi ragazzi questa mattina? Allora, manifestazione importante, organizzata benissimo, i ragazzi sia nella giornata di ieri che in quella di oggi si sono divertiti, che è quello che come Onei ci interessa di più, poi c'è l'aspetto competitivo e devo dire che sono molto contento di quello che sta accadendo. Manca ancora una partita, ci siamo, ci siamo dentro e siamo contenti. Ecco, mi hai detto, è importante l'aspetto valoriale, quanto stanno crescendo i ragazzi in questi termini e quanto ancora manca per arrivare a completare una struttura anche empatica con i ragazzi oltre che tecnica? Questi sono ragazzi che sono alla soglia dell'agonistica, quindi il concetto di apprendimento e di divertimento non deve mai essere messo in secondo piano, sale il livello di competizione, stiamo lavorando affinché anche nei prossimi mesi questi ragazzi siano preparati e pronti per il calcio cosiddetto dei grandi, quello a 11. Il lavoro è importante, il processo di crescita è assolutamente valoroso, siamo contenti come Onei e a prescindere poi dalle categorie e dai gruppi di appartenenza. Grazie ad Alessandro Nini, complimenti. Grazie a voi, complimenti e complimenti all'AICS.